Good morning a tutti voi e buona giornata. Siamo sempre in compagnia con gli Atti degli Apostoli, al capitolo quinto, versetto 17. Si levò allora il sommo sacerdote con tutti quelli della sua parte, cioè la setta dei Sadducei, pieni di gelosia, e presi gli Apostoli li gettarono nella prigione pubblica. Abbiamo saltato un pezzo perché c'è stata la festa dell'annunciazione che ha cambiato la data dal 25 a ieri, ma siamo sempre sullo stesso pezzo, cioè i capi si riuniscono, sono presi dalla gelosia, sbattono gli Apostoli in prigione, cercano insomma di rinchiudere la parola di Dio, l'annuncio di Cristo morto e risorto. Ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte del carcere, li condusse fuori e disse «Andate e proclamate al popolo nel Tempio tutte queste parole di vita». Questo passaggio è eccezionale. Un angelo del Signore aprì le porte del carcere, cioè la parola apre le porte dei nostri carceri, apre delle possibilità, perché noi tutti nella nostra vita sia di fede sia nella nostra vita normale rischiamo di essere un po' rinchiusi noi e un po' farci rinchiudere dal modo di pensare del mondo, dalla società, dal capitalismo, dalla frenesia di comprare mille cose, eccetera, eccetera. Andate e proclamate tutte queste parole di vita. Gesù ha una parola di vita, la parola libera e genera altre parole di vita. Questo è quello che non riescono i capi a capire, non hanno capito con Gesù, non hanno capito neanche adesso, che la parola non la puoi fermare, non la puoi imprigionare, perché lei va avanti, va avanti tramite dei cuori veri, dei cuori puri degli uomini e delle donne che a un certo punto, come abbiamo ascoltato qualche giorno fa, non possono tacere e non tacciono e vanno avanti. Udito questo, entrarono nel Tempio sul far del giorno e si misero ad insegnare. Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, convocarono il Sinedrio, cioè tutto il Senato dei figli di Israele, mandarono quindi a prelevare gli Apostoli nella prigione, ma gli inservienti giunti sul posto non li trovarono nel carcere e tornarono a riferire. E' certo che non li trovarono nel carcere, appunto, perché chi segue la parola non può essere incarcerato. Abbiamo trovato la prigione scrupolosamente sbarrata, le guardie che stavano davanti alle porte, ma quando abbiamo aperto non vi abbiamo trovato nessuno. Perché? Perché chi è vivo tu non lo puoi trovare nel sepolcro. Risurrezione. Non è qui il risorto. Chi è vivo tra i cristiani, tra noi cristiani, non ci puoi trovare nei sepolcri, nelle prigioni, chiusi nei nostri gruppi. Ci trovi nella vita. Udite queste parole, il comandante delle guardie del Tempio e i capi dei sacerdoti si domandavano perplessi a loro riguardo che cosa fosse successo, come già era caduto la risurrezione. In quel momento arrivò un tale, bellissimo, a riferire loro ecco, gli uomini che avete messo in carcere si trovano nel Tempio a insegnare al popolo. Allora il comandante uscì con gli inservienti e li condusse via, ma senza violenza per timore di essere lapidati dal popolo. Dunque, non so se finisce già qui, vado a vedere su internet. Sì, finisce già qua. Insomma, mentre che loro discutono, appunto, la parola va avanti. Noi abbiamo questo deposito, questa eredità che è la forza di Cristo risorto, non possiamo fermarci, ma non dobbiamo aver paura di nulla, di nulla, come stanno facendo gli apostoli che si trovano adesso con una forza così grande, così potente, così esultante risultante che è semplicemente la presenza di Gesù che non si fanno più problemi, le catene non sono catene, andate nel Tempio e annunciate, via, andiamo. Ecco, che bello slancio che ha questa Chiesa, piccola piccola, che è a Gerusalemme, ma che ci insegna tanto, insomma, a non menare il camperlaia e a testimoniare l'amore di Cristo che è risorto e viva. Le cose belle della giornata di ieri, beh, la cito soprattutto, l'incontro con la Sant'Arcisio, la Sant'Arcisio, per chi non lo sa, è la nostra associazione sportiva, e quindi questo è un cuore, un polmone, ecco, importante della parrocchia, ecco. E poi ieri, insomma, mi è piaciuto parlare con alcuni ragazzi, perché, dunque, oggi, quando voi vedete questo video, finisce il Ramadan, e quindi, insomma, è una festa importante, ecco. E quindi abbiamo condiviso alcune cose su questo. Ale, buona giornata a tutti voi!